Sono nell'aeroporto e si parte per Parigi. Non vedo proprio l'ora, secondo me è benissima e non ci sono neanche mai stata. E adesso è giunta l'ora di vedere un po' com'è fatta. Ecco qui ragazzi, adesso stiamo camminando negli Champs d'Alicee ed è bellissimo. Guardate tutte le luci e poi là in fondo c'è l'arco di Triomphe ed è veramente spettacolare. Guardate tutte le luci e sì è veramente bellissimo. Adesso stiamo camminando così arriviamo sempre più vicini all'arco di Triomphe. E sì mi piace troppo e c'è anche mia madre che cammina insieme a noi. E sì ragazzi non vedo l'ora di arrivare più vicino all'arco di Triomphe. Sono nel centro di Parigi e ci stanno pure i cammelli. E poi i rini stanno morendo di freddo perché fa veramente molto freddo. Vedete tutto il vento? E vabbè sono molto freddo. Ragazzi adesso stiamo a Notre Dame. Ed è grandissima e spettacolare. Sono pure andata dentro ed è veramente gigantesca. Non è grande come una chiesa normale, è veramente grandissima. Ragazzi adesso siamo alla Gallerie Fayette. Ragazzi adesso siamo alla Gallerie Fayette. Ragazzi siamo alla Torre Eiffel e sta brillando. Ok adesso sono finalmente nell'albergo. Ah e che bello ragazzi sono veramente esausta. C'era pure un casino proprio che non vi immaginate nemmeno. I manifestanti che hanno fatto proprio un caos. E vabbè sono esausta e finalmente sono sul mio lettino bello comodo. Ecco qui adesso invece siamo a Montmartre. Ed è un quartiere troppo carino con l'albero di Natale, la chiesa. E adesso andremo a vederlo un po' più da vicino. Adesso siamo a Montmartre nella piazza degli artisti. E sì è veramente molto bello. Con tantissimi quadri e artisti in giro è veramente stupendo. Ragazzi non ci crederete mai e adesso siamo nel bar di Amelie. E' veramente molto originale e bello. Adesso lo faccio vedere meglio. Questo è il mio film preferito in assoluto. Dove c'è una ragazza di nome Amelie che lavora in questo bar. E succedono altre cose molto interessanti. Ragazzi invece adesso stiamo al Moulin Rouge. E' veramente bello e pure rosso. Proprio come me. E adesso vogliamo pure il Can Can. Dai scherzo ragazzi. Ragazzi siamo tornati in albergo. E qui ci sono i macaron veramente troppo buoni. Non li ho mai assaggiati. E non vedo proprio l'ora di vedere un po' che sapore hanno. E vabbè ragazzi questa è l'ultima sera a Parigi. Mi mancherà molto. E comunque questo è troppo carino. La torre Eiffel tipo in oro. Con questo macaron però a forma di cuore. Con questo fiocchettino. Per mettere sull'albero di Natale. Troppo 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 carino. Veramente adorabile. Poi ci sta questo carillon. Sulla torre Eiffel. L'arco di triomphe. Poi la metro. Vabbè. Tutte le cose famose di Pagligi. Che fa una musichetta. E indovinate un po'. La musichetta. Cioè la colonna sonora che sta nel film. Il favoloso mondo di Amélie. Cioè quella ragazza che lavorava in quel bar. Vi ricordate? Vabbè abbiamo comprato fuori il carillon. Allora ascoltate. E' troppo carino. E' veramente adorabilissimo. Poi la musica è troppo bella. E vabbè. Poi abbiamo comprato pure questo. Per metterci sopra tipo trucchi. Anche il carillon. Troppo carino. Con il scritto Parigi. La torre Eiffel. Sempre l'arco di triomphe. Troppo bello. Tutto rosa. E poi abbiamo comprato pure questa torre Eiffel. Per Natale. E indovinate? Si illumina. Cioè pieno di luce. Poi è troppo bello per Natale. Con scritto Paris. Cioè Parigi. Ed è troppo bello. E' anche molto grande. E sì. Adesso finalmente assaggio un po' i macaroon. E' davvero buonissimo. Il sapore è un po' particolare ma è proprio buono. Sembra quasi tipo gelatina. Non gelatina. Marmellata. Dentro. E vabbè. Molto buono. Non l'ho mai mangiato. E finalmente l'ho assaggiato. Che bello. Vabbè ragazzi. Spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video. Mi mancherà un sacco Parigi. Adesso lo salutiamo. Saluto anche voi. Ma soprattutto la mia cara Parigi. Ciao Parigi. Ci vediamo. Spero tanto di ritornare. Alla prossima ragazzi. Se vi è piaciuto questo video. Mettete un bel like. E se volete iscrivetevi al mio canale. Alla prossima.